La Cavese ha il suo nuovo quartier generale. La voce, diffusasi da qualche tempo, è diventata ieri ufficiale. Il presidente Domenico Campitiello ha ottenuto la gestione dello stadio comunale Superga di Mercato San Severino e sarà quella la nuova casa degli Aquilotti e aprirà le porte sia agli allenamenti della prima squadra sia a quelli della cantera bianco-blu. La struttura, da poco sottoposta al lavoro di restyling del manto erboso, ospiterà pure le gare ufficiali delle formazioni del settore giovanile. L'accordo sottoscritto, annunciato ieri attraverso una nota stampa il club, rientra nell'ottica della politica di programmazione pluriennale voluta dal presidente Campitiello. Come dire, Campitiello non solo non lascia la guida del sodalizio metelliano, come da più parti si era vociferato nei mesi scorsi, ma addirittura rilancia, patrimonializzando la sua società. Emilio Longo e i suoi uomini inizieranno ad allenarsi a Mercato San Severino non appena si saranno conclusi gli ultimi lavori di miglioramento dell'impianto, questione ormai di settimane. Sempre ieri, intanto, la società Aquilotta ha annunciato pure l'arrivo di un nuovo portiere, il classe 96 Giuseppe D'Amico. Per il giovane calciatore Cavese Doc si tratta di un ritorno tra le file bianco-blu dopo le esperienze in Serie D nelle annate dal 2012 al 2014. D'Amico nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca del Turris, vincendo il campionato di eccellenza 2014-2015 e centrando la salvezza in Serie D nella passata stagione. Sarà disponibile già per la trasferta di domenica a Barcellona Pozzo di Gotto con l'Igea Virtus. Grazie a tutti.